Il tema di quest'anno della fiera dell'Orgatech alla SEDUS è, come vedete, Create Spaces with Personality, cioè creare lo spazio con personalità. L'obiettivo è dare a lei, a voi, gli strumenti necessari per gestire lo spazio, per dare le risposte al nuovo tipo di lavoro, quello della flessibilità, dello smart working, ma soprattutto creare dei contesti che danno la possibilità per i lavoratori e di esprimere il massimo della loro potenzialità in termini di creatività. Per farvi illustrare questo, abbiamo creato uno spazio che chiamo Creativity Lab. Nel Creativity Lab abbiamo utilizzato dei colori che aiutano a stimolare il focus nel processo della stimolazione, in processi di workshop. Le persone possono scegliere se stare in piedi o stare seduti, sono all'altezza con le stesse linee, all'altezza con gli occhi, e anche ci sono dei pannelli verticali che gli permette anche di scrivere, di utilizzare questo spazio a loro piacere. In più ci sono delle zone di conferenza, delle zone che permettono la flessibilità anche in termini di seduta, di gestione dello spazio e che dà la massima potenzialità anche per i clienti di giocare con colori, con possibilità di creare la loro personalità all'interno dello spazio dell'ufficio. Grazie.